Domenica 23 febbraio 1997, Libertà titolò Giallo a Piacenza ha sparito il Klimt. Il dipinto era stato trafugato dalla Galleria Ricci Oddi almeno quattro giorni prima, mentre era in corso il trasloco di diverse opere a Palazzo Gotico, in vista della mostra da Aietza Klimt, maestri dell'Ottocento e Novecento della Galleria Ricci Oddi, di cui l'opera doveva essere il pezzo forte. La cornice del quadro fu trovata nello sgabuzzino di un lucernario. Sulla tecnica del furto si inseguirono tesi svariate, dall'uscita attraverso la porta principale su via San Siro nella confusione di quei giorni, ma anche il passaggio dal tetto dopo aver spostato il velario. Inizialmente furono indagati i custodi della Galleria, ma la loro posizione fu ben presto archiviata dal giudice. Le piste da allora si susseguirono e arrivarono anche all'estero. Spuntò in seguito l'ombra di una coppia esatta, fu rintracciata e posta sotto sequestro, ma si rivelò appunto una coppia. Alcuni anni dopo il furto, il compianto presidente della Ricci Oddi, Lino Gallarati, si recò a Ventimiglia. Si diceva che il Klimt fosse stato ritrovato insieme al tesoro di Craxi, ma la notizia si rivelò infondata. Nel corso degli anni del caso si occuparono anche la BBC e la trasmissione Chi l'ha visto? Il giornalista di Libertà, Ermanno Mariani, ricostruì la vicenda nel romanzo Il mistero del doppio ritratto di Klimt. Una curiosità. Nei giorni precedenti il furto, l'allora direttore della galleria Stefano Fugazza, scomparso nel 2009, aveva ipotizzato di organizzare un finto furto del Klimt per pubblicizzare la mostra di Palazzo Gotico. Il ritratto di Signora venne dipinto dal pittore viennese Gustav Klimt tra il 1916 e il 1917, un olio su tela che rappresenta una delle opere più significative dell'artista. Il ritratto di Signora venne acquistato da Giuseppe Ricci Oddi a Milano nel 1925 per 30.000 lire. Il dipinto nasconde un pentimento artistico di Klimt scoperto pochi mesi prima del furto dalla studentessa pavese Claudia Maga. Sotto l'originale si nascondeva il ritratto di ragazza ritenuto scomparso da critici e collezionisti. L'opera fino a ieri era la seconda più ricercata d'Italia, uno tra i dieci quadri più ricercati al mondo, insieme tra gli altri ai fiori di papavero di Van Gogh e alla natività di San Francesco e San Lorenzo di Caravaggio. Grazie a tutti.